Telefriuli, ben tornati al punto e noi facciamo proprio stasera il punto della settimana. Durante questa settimana sono successe delle cose qui in regione abbastanza rilevanti, perché le famose UTI, le unioni territoriali intercomunali, hanno momenti di fibrillazione piuttosto importanti. Vediamo Paolaro che vuole uscire dall'UTI della Carnia, ma vediamo anche Monfalcone che pare si dimetta proprio dall'UTI dopo averla abbracciata e vediamo anche Udine dove i vigili urbani hanno scoperto che una volta entrati nell'UTI hanno perso l'indennità del porto d'armi, nel porto di pistola in sostanza. A livello nazionale invece abbiamo il caso, oltre al congresso del Partito Democratico, che avrà delle ricadute notevoli anche qui in regione, mi pare ci sono dei passaggi anche di aria, mi hanno parlato per esempio di Gerghetta che passa a Congrenzi prima dall'altra parte, comunque lo vedremo. Poi c'è il caso Consip che potrebbe cambiare un po' anche il percorso della politica italiana, il Consip che è l'acronimo del concessionario dei servizi informativi pubblici, cioè razionalizzare la spesa, spendere di meno e avere più servizi, eccetera. E poi c'è il braccio destro del centro-destra tra Lega e Forza Italia, i grillini che si stanno avvicendando e pare che sbarchino anche a Udine. Ma noi proprio per parlare del comune di Udine, io ho sempre detto che Udine sarà dirimente sulle politiche regionali e quant'altro, abbiamo ospite qui il dottor Bertossi, Enrico Bertossi, buonasera dottore, che ha accettato appunto questa chiacchierata, ci dirà anche le motivazioni, lui è già sesso in campo con la sua squadra, prima Udine. Ma volevo capire Bertossi, le motivazioni forti che l'hanno indotto così, a partire prima degli altri? Beh, innanzitutto perché Udine è in una situazione di grande difficoltà, una situazione di difficoltà economica, di difficoltà sociale, la gente è molto arrabbiata, abbiamo una presenza di profughi esagerata rispetto alle altre realtà italiane e regionali, abbiamo un profugo ogni 90 abitanti, abbiamo una situazione di ordine pubblico che le autorità tendono a minimizzare, ma anche l'altro giorno c'è stata una rissa molto grave in Piazza San Giacomo in pieno giorno, cioè tutte cose a cui gli udinesi non sono abituati e non vogliono abituarsi. In più c'è una situazione di manutenzione della città, le strade, i marciapiedi, molto deficitaria, complessivamente c'è un stato di grande disagio da parte della cittadinanza. Questo disagio mi viene rappresentato ogni volta che cammino per la strada e quindi ho deciso che sia il momento di impegnarsi fortemente per la nostra città. Lo faccio con grande umiltà, abbiamo un bel gruppo di persone che si stanno ritrovando per fare un programma molto puntuale e io credo che non ci sia bisogno della solita logica spartitoria tra i partiti o tra le correnti dei partiti, ma ci sia bisogno di parlare prima di tutto di Udine, della nostra città. Per questo io tweeto, posto su Facebook con l'hashtag Prima Udine che sarà anche il nome della mia lista civica probabilmente. Ecco, con tutta probabilità, Gentiloni ieri sera ha detto che si voterà il prossimo anno, dopo si vedrà come andranno le cose, ma dipenderà un po' anche le liste che saranno in inizia eccetera. Eventualmente qualche alleanza, è chiaro, lei farà l'alleanza con i cittadini, lei farà l'alleanza con Udine, ma eventualmente arrivando a un balottaggio, perché con tante liste che si prevedono, tanti candidati, probabilmente un balottaggio si sarà. Quale preferenza può avere il centro-destra, il centro-sinistra solo per Udine? Io non ho la sfera di cristallo, non posso prevedere quando si voterà, come si voterà, perché è importante sapere se si vota lo stesso giorno delle elezioni politiche e delle elezioni regionali, questo sarebbe per Udine un grande problema, noi da troppo tempo a Udine votiamo insieme ad elezioni più importanti, per cui si parla sempre poco della città e sempre di più di altre cose. È evidente che io punto a rafforzare innanzitutto una compagine di liste civiche legate al territorio, legate alla città, che possano consentirmi di avere una base elettorale. Quindi ci potrebbe essere un polo di liste civiche? Sì, io certamente lavoro per creare un polo di liste civiche che poi si confronterà necessariamente con qualche partito. Io in tutta onestà credo che si voglia una grande discontinuità rispetto alla gestione di Onsel. Onsel ha pensato molto a se stesso e poco alla città, secondo me. Questo era evidente sin dal primo anno del suo mandato e ha proseguito gli altri otto esattamente così. Quindi noi abbiamo bisogno di ritrovare un amore per la nostra città, una conoscenza dei problemi, una conoscenza della città, sapere che quando cammini per Udine sai bene qual è la vita, la storia, quali sono le esigenze dei nostri cittadini. Il sindaco non deve pensare alla propria carriera futura, deve pensare a far girare bene la città. Oggi la città di Udine non gira bene, non gira bene certamente non solo per colpa del sindaco, però ha bisogno di uno scossone. Quindi io guardo a chi sarà in grado insieme a me di dare uno scossone a questa città. Ecco, senta, ultimamente mi pare, ieri ho sentito che il comune di Udine ha iniziato il programma delle asfaltature, per cui qualcuno non essenzialmente dice è iniziata la campagna elettorale. Si parla di Via Mercato Vecchio, qual è il punto, il core business quasi della politica udinese, però io ho girato un momentino prima di questa trasmissione per le periferie di Udine e ho visto che effettivamente le periferie hanno un po' da dire, sono un po' arrabbiate diciamo così, no? Lei non crede che un programma per Udine sia sì il centro, il salotto buono della città, ma anche le periferie che in qualche modo non hanno ancora avuto quello che si aspettavano? Ma proprio negli anni, eh? Direi soprattutto per le periferie, perché è vero che il centro storico è il biglietto da visita della città, è il motore del turismo, del commercio, però i cittadini abitano per la maggior parte nelle periferie e hanno esigenze di decoro urbano, di viabilità, di controllo del territorio, di investimenti sul territorio molto importanti. Io ho notato adesso i grandi programmi di asfaltatura per 2 milioni di Euro che stridono un po' con il 1.600.000 Euro della pietra piasantina in Via Mercato Vecchio. Io l'ho detto in settembre che secondo me l'appalto, il progetto di Via Mercato Vecchio andava sospeso, innanzitutto perché si arriva alla fine del secondo mandato della giunta Onser e quindi dopo 9 anni si può aspettare ancora qualche mese e lasciare al prossimo sindaco, alla prossima amministrazione comunale la scelta di fare qualche cosa di così invasivo in Via Mercato Vecchio. In secondo luogo credo che ci siano altre priorità, piuttosto che 1.600.000 Euro di pietra piasantina in Via Mercato Vecchio abbiamo molte e molte strade in periferia da sistemare e con 2 milioni di asfalti francamente non si fa molto. Quello che è mancato in questi anni è stato proprio un programma serio di manutenzione della città, cioè dire in 10 anni facciamo queste cose a beneficio di tutti i cittadini di Udine in maniera tale che si risolvano dei problemi anche storici. È chiaro che non ci sono risorse infinite, però se si fa un programma di 10 anni in 10 anni si sarebbe potuto fare molto. Quindi la mia attenzione sarà molto nella programmazione di quello che si deve fare per sistemare i problemi della città. Ecco due cose, il mega parcheggio io penso che l'amministrazione comunale lo porterà come un biglietto da vista. Effettivamente è un parcheggio molto bello, io non entro nell'ambito dei costi perché qualcosa le apposizioni hanno anche detto. Ma questo parcheggio servirà effettivamente a Udine per lanciare il turismo, il commercio o che cosa? Il parcheggio secondo me andava fatto, forse si poteva fare un po' più grande in maniera tale di abbattere i costi di gestione e avere una disponibilità maggiore, però non sono tra quelli che ogni volta che si fa qualche cosa critica per il gusto di criticare. Il problema è un altro, ci vuole un progetto di rilancio turistico, culturale, commerciale della città e in particolare del centro della città. In questo contesto anche un parcheggio in più è utile, ma non è il centro di tutto il parcheggio. Il parcheggio è un servizio che assieme ad altri servizi si deve dare a chi viene a Udine. Io credo che ci vorrà un manager di destinazione, una persona dedicata al marketing territoriale, alla programmazione di tutti quelli che sono gli eventi turistici, culturali, per far venire la gente a Udine. A proposito di eventi, oltre il grande successo che comunque sia Friuli Doc, ottiene sempre, eccetera, adesso Okser ha lanciato anche Gay Pride e tenta di portare della gente in cui città con manifestazioni nazionali. Insomma è facile fare polemica su queste cose, io non mi addentro su queste polemiche perché non fanno parte della mia cultura e del mio carattere. Io credo che la nostra città abbia bisogno di eventi, eventi continuativi che caratterizzino una offerta turistica e commerciale seria. Io penso che gli austriaci, i croati, gli sloveni, gli stessi veneti verrebbero molto volentieri nella nostra città a fare shopping, a visitare mostre, a gustare le nostre specialità gastronomiche, a frequentare i nostri ristoranti, se lì si alletta con un qualche cosa di interessante, con una serie di sconti, una serie di offerte anche di ospitalità nei nostri avveri, anche i parcheggi gratuiti, eccetera. Leggevo oggi qualche lamentela perché ieri c'erano i parcheggi chiusi. I parcheggi non devono essere solo gratuiti la domenica, devono essere anche aperti, cioè i parcheggi sotterranei devono offrire la domenica gratuitamente l'ospitalità. Ecco, il tempo stringe e quindi dobbiamo chiudere. Io ringrazio molto Bertossi che è venuto, magari tornerà quando la battaglia sarà molto volentieri. E naturalmente nell'augurarvi una buona visione con i programmi Telefriuli, io faccio un auguro per la prossima settimana, per questa settimana anzi, il giorno 8 è la festa delle donne, quindi auguri a tutte le donne, e viva le donne e viva Telefriuli.